ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi realizzeremo insieme una scatola con i pisla ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella iniziamo il materiale che vi occorre per realizzare questa scatolina saranno i pisla che io andrò ad utilizzare i pisla bianchi e rosa ma voi utilizzerete quelli che volete un telaio io andrò a utilizzare questo a forma di cerchio la carta forno la pistola a caldo e il ferro da stiro la prima cosa che dobbiamo fare è realizzare sia la base e il coperchio della nostra scatola e tutto ciò che dobbiamo fare è prendere il telaio e ricoprire e ricoprirlo con i pisla poi avete ricoperto tutto il telaio con i pisla andate a prendere il ferro da stiro e mettete sopra la sopra il telaio la carta forno e il pesate il ferro da stiro sopra finché i pisla si attaccheranno tra di loro e subito dopo togliete la creazione del telaio dopo aver fatto sia la base il coperchio della nostra scatola lo stirate e questo è il risultato adesso andiamo a fare i lati della nostra scatola e per farlo dobbiamo prendere i pisla sempre del colore che volete e riempire soltanto la seconda e la terza striscia del nostro cerchio o quadrato insomma utilizzerò il cerchio dopo averlo fatto lo stiriamo e questo è il risultato noi dobbiamo fare fino a quanto vogliamo fare alta la nostra scatolina e ne andremo a fare all'incirca una decina del colore sempre che volete questi sono tutti i pezzi che ci servono per realizzare la nostra scatolina e sono 9 lati e due basi adesso dobbiamo incollare tutti i nostri pezzi prendiamo prima la base e poi dopo un lato e nel lato ci mettiamo la colla a caldo così e subito dopo lo applichiamo nella base e facciamo così con tutti i nostri lati dopo aver applicato la colla su tutti i lati questo è il risultato della nostra scatolina è molto semplice ma molto molto carina questo ovviamente il coperchio che poi mettete su per coprire ciò che conterrà la vostra scatolina ovviamente ci potete mettere che ne so braccialetti oppure dei bottoni oppure tantissime altre cose e voi la potete fare alta quanto volete io l'ho fatta così di 9 spero che questo video sia stato utile che vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video ciao ciao